Musica Strategia aria interna, il Vallo di Diano protagonista a Roma è su off post per la sua strategia e per la capacità di unire il territorio. Aulette, il sindaco fessolano risponde alle accuse, non serve fare i buoni samaritani oggi. Agropoli va in ospedale, ad Agropoli, Vallo della Lucania e Eboli la dimettono e muore il 54enne. Conca dei Marini, al Santa Rosa Pastry Cup trionfa il maestro Giuseppe Maniglia di Montesano con la sua Santa Rosa melata. Sport, a Polla si chiude l'epoca del calcio a 11 eppure l'insegna dello stadio Medici il cambio a colori. Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento pomeridiano con informazioni di Uno News. Apriamo occupandoci di strategia delle aree interne perché ieri a Roma si è tenuta una giornata di incontri con il ministro Barbara Lezzi. Presente anche il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che ha illustrato la strategia aree interne Città-Vallo di Diano, mostrando come la strategia del territorio sia in netto vantaggio rispetto a tutte le altre strategie. Giornata proficua anche per la possibilità di confrontarsi con i referenti delle altre aree interne che ha portato al termine della giornata all'idea di costituire la federazione delle aree interne. Il Vallo di Diano sull'off post per la sua capacità di interpretare la strategia delle aree interne. Ieri a Roma il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, è stato assoluto protagonista dell'incontro con i tecnici del Ministero della Coesione, alla presenza anche del ministro Barbara Lezzi e dei referenti delle altre aree interne. Una giornata costruttiva anche per la possibilità di confrontarsi tra i diversi referenti e che si è conclusa con la volontà di creare una federazione delle aree interne al fine di avere un maggiore peso decisionale e magari poter presentare proposte utili al governo centrale a sostegno delle aree interne. Il Vallo di Diano si è rivelato un'eccellenza per la sua programmazione, già ben definita e in netto anticipo sui tempi rispetto alle altre strategie. L'intervento del presidente Accetta, unico rappresentante per la regione Campania, è stato seguito con grande interesse da tutti i presenti in sale ed è stato spunto per l'articolo del Love Post in cui la giornalista Bianca Di Giovanni ha visto l'analogia con il resto dell'Italia. Il rischio di spopolamento che vive il Vallo di Diano, nonostante le tante bellezze e opportunità che insistono sul territorio, come la vicinanza ad uno dei mari più belli d'Italia, l'essere parte del Parco Nazionale più vasto e vario d'Italia, avere monumenti come la Certosa di San Lorenzo tra le più grandi d'Europa, tutte particolarità ricordate nell'articolo del Love Post, è lo stesso che si vive in tutta Italia, nonostante sia il paese più ricco dal punto di vista culturale e che tutto il mondo ci invidia. A colpire anche l'iniziativa adottata dal Vallo di Diano nel rivolgersi ai ragazzi delle scuole chiedendo loro come immaginano il Vallo di Diano nel 2036. La strategia di interne Vallo di Diano, illustrata a Palazzo Chigi dal presidente Accetta, ha raccolto quindi l'interesse della platea e del ministro Lezzi per la capacità di riunire un territorio e di raccoglie le grandi potenzialità trasformandolo in opportunità, come l'idea che scaturita dall'incontro con i giovani per la creazione di un Fab Lab al servizio di tutte le scuole per la loro attività laboratoriale ed innovazione, ma anche la realizzazione dell'ospedale di comunità al servizio del territorio, tutte azioni che necessitano di un servizio di trasporto efficiente ed efficace come il progetto elaborato nell'ambito delle strategie aree interne e legato alla mobilità del territorio. E questa mattina abbiamo intervistato il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che ha tracciato un bilancio della giornata di ieri a Roma con il successo ottenuto dalla strategia del Vallo di Diano e l'interesse è mostrato anche dal ministro Lezzi verso appunto la strategia del nostro territorio. Ascoltiamolo. Abbiamo avuto la possibilità come territorio di rappresentare il nostro percorso che abbiamo fatto in questi anni e il risultato che abbiamo raggiunto attraverso la proposta progettuale, ma abbiamo avuto anche la consapevolezza di essere in linea con tante altre zone della della Nazione che stanno lavorando sulla strategia delle aree interne e abbiamo visto anche avuto la disponibilità e il consenso del ministro, la dottoressa Barbara Lezzi, che ha manifestato grande interesse per questo percorso che stiamo facendo come aree interne e che sicuramente lo sosterranno anche come governo attuale. Io credo che uno dei vantaggi che noi avremo nei prossimi anni con la strategia delle aree interne è anche questo, cioè quello di poter colloquiare e interloquire direttamente con i responsabili del ministero. Adesso andremo a elaborare quella progettazione che allo Stato è riportata in schede progetto che noi abbiamo presentato e che addirittura ieri ci hanno detto probabilmente saranno prese come modello e come riferimento per le altre aree, perché noi abbiamo fatto un lavoro addirittura un po' più avanti rispetto agli altri e quindi queste schede però diventeranno progetti veri e propri. Quello che probabilmente prima della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro noi cercheremo di capire, cercheremo anche di proporre e se riusciamo a fare un unico soggetto che andrà a gestire poi non solo le risorse ma i processi, perché sarà molto complicato mettere insieme, faccio per dire, quello che riguarda la sanità, il trasporto, l'istruzione, lo sviluppo, perché deve essere tutto coordinato, deve essere tutto diciamo fatto in modo tale che non si blocchi un servizio rispetto ad un altro, altrimenti cade la strategia e viene meno quello che è la finalità, cioè quello di creare nella nostra area il miglioramento di determinati servizi che devono attrarre i cittadini, convincere i cittadini a rimanerci. Abbiamo ricevuto i complimenti da parecchi anche colleghi di altre aree perché subito si è creato anche un interscambio di buone pratiche eccetera eccetera e addirittura nel pomeriggio ieri abbiamo parlato di questa federazione delle aree interne che probabilmente ci rafforzerà ancora di più anche nei rapporti con lo Stato, con il Governo e ci rafforzerà soprattutto perché tra di noi si possano creare anche lo scambio di buone pratiche insomma. Una delle nostre buone pratiche è già diventata un modello e già la usano che è quella appunto dell'incontro che noi abbiamo fatto con la scuola perché abbiamo dimostrato che ecco dalla scuola è arrivato nel nostro caso un input importante che ci ha cambiato addirittura rotta quando abbiamo fatto la scelta. Prima era solo biodiversità culturale e naturale, oggi è Vallo di Diano città della biodiversità e dell'innovazione. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del caso di Auletta dopo le accuse di potere al popolo il primo cittadino di Auletta Pietro Pessolano rompe il silenzio ad accusare i cittadini e le istituzioni di omertà sono le stesse persone che un anno fa ci accusavano di essere razzisti perché non volevamo il centro. È facile fare i buoni samaritani oggi. Dopo giorni di silenzio il sindaco di Auletta Pietro Pessolano decide che è il momento di parlare, spegnere quelle polemiche e soprattutto rispondere a chi in questi giorni ha spuntato il dito sul silenzio, l'omertà, l'ipocrisia, l'indifferenza e infine il razzismo di cui sono complici le istituzioni, forze dell'ordine, gestori della cooperativa, gli uomini che pagano le donne per i servizi del sesso e i cittadini e le tesi che sanno e si girano dall'altra parte. Tutto riferito al caso del centro di accoglienza dove nei giorni scorsi c'è stato il dramma della cittadina nigeriana che ha partorito un feto, non si sa se vivo o morto, e poi nascosto in un secchio all'esterno della struttura. Pessolano interviene sottolineando come in questo anno mi aspettavo richiami ufficiali dal prefetto, dall'aslo, dai proprietari della struttura e altri che ho sollecitato e attaccato duramente ma non sono venuti, mentre oggi ad attaccare Auletta e i suoi cittadini parlando di omertà, di sapere e tacere, di istituzioni che non fanno nulla, sono gli stessi giornalisti, associazioni e partiti politici che un anno fa mi tacciavano di razzismo per non volere il centro di accoglienza, a questi dico delle due e l'una. In più, aggiunge il primo cittadino, oggi ci attaccano le stesse persone che un anno fa mi invogliavano ad accettare l'arrivo dei migranti così da poter, tra virgolette, sistemare qualche cittadino facendolo lavorare nel centro di accoglienza, cosa a cui mi sono sempre opposto, e oggi chiedono chi lavora per conto di chi e a quale titolo. Sulla questione spazzatura, Pessolano chiarisce che l'amministrazione usa lo stesso metro con tutti i cittadini e anche nel caso di Lontrano, quando viene segnalata la mancata raccolta, vengono prontamente inviati i dipendenti comunali per risolvere la problematica. La raccolta rifiuti continua e l'unica attività che svolgiamo per la struttura. Sull'accusa di presenza di servizi del sesso, Pessolano chiarisce che sarà compito dell'arma dei carabinieri, in cui vi pongo in condizionata fiducia, verificare la fondatezza di tale accuse. Ma è chiaro che chissà deve, anzi doveva denunciare nelle sedi competenti, ma non oggi strumentalizzando le situazioni perché è troppo facile, ma prima della drammatica vicenda che si è consumata nei giorni scorsi. Pessolano poi, sull'ipotesi che il bimbo fosse il figlio di un cittadino olettese, entra in gamba tesa e chiarisce. A scuola ci insegnavano a contare disegnando un'asta alla volta. Credo che i vecchi melodi vadano riammessi perché se la ragazza era incinta di 25 settimane, ovvero 6 mesi, ma è arrivata da Oletta soltanto due mesi fa. Ciò significa che era già in attesa al momento di arrivare nel nostro comune. Di conseguenza, dire che un olettese potrebbe essere il padre di quel fedo, sa di assurdo e privo di qualsiasi fondamento logico. La chiusura, il sindaco di Oletta, la dedica alla difesa dei suoi cittadini, definiti omertosi. I miei cittadini, dice Pessolano, sono persone perbene e sanno e parlano perché sono liberi e chissà ha sempre denunciato situazioni anomale. Chi denuncia oggi, forse, sapeva qualcosa già prima e perché non l'ha denunciato? Facile, conclude Pessolano, fare i buoni samaritani oggi, ma bisognava farlo ieri. Ancora cronaca, accusava diversi malori dopo essere stata negli ospedali di Agropoli, Vallo della Lucania ed Eboli, una 54enne di Agropoli che è stata poi dimessa. La donna è deceduta senza spiegazioni. Vediamo. Accusava un malore nel fianco e un senso di malessere fisico generale, ma dopo essere stata negli ospedali di Agropoli, Vallo della Lucania ed Eboli e rimandata ogni volta a casa, alla fine non ce l'ha fatta Antonella Casale, una mamma di 54 anni di Agropoli deceduta presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una morte improvvisa senza spiegazioni che ha sconvolto i familiari, i quali hanno presentato denuncia alla locale compagnia Carabinieri per capire se ci sia stata qualche responsabilità da parte del personale sanitario o se la morte era inevitabile. Infatti non si capisce quali siano state le cause che abbiano condotto alla morte della donna. Solo esami più approfonditi faranno luce su quanto accaduto. Il tutto è iniziato sabato scorso, quando Antonella è stata condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli con dolori nel fianco. Da lì poi è stata trasportata presso il San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari l'hanno rimandata a casa. Il giorno seguente le problematiche si sono ripresentate, a quel punto i medici hanno provveduto ad un lavaggio. Ma dopo qualche ora i malori si fanno più forti e le condizioni della 54enne sembrano peggiorare. Così Antonella viene ricondotta al presidio ospedaliero vallese, dove purtroppo muore intorno alle ore 2 circa della notte, tra domenica e lunedì. Ora la famiglia vuole farci chiarezza, Antonella lascia un marito e tre figli. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della procura. Ancora cronaca, andiamo a Sanza, dove in località Petraro la scorsa notte c'è stato un incendio che ha interessato diverse rotoballe di fieno. Le cause sono ancora ignote, sono infatti in corso gli accertamenti per capire come si siano sviluppate le fiamme. Sono intervenuti prontamente sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, al comando del caposquadra Alessandro Morello. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore per via delle forti raffiche di vento che in queste ore stanno interessando il territorio. Andiamo avanti, cambiamo argomento da Sapri a Scafati. Quindi su tutto il territorio provinciale ci sarebbero 210.000 case. Di queste oltre 130.000, quindi circa il 60% sarebbero a rischio sismico perché costruite prima della normativa antisismica degli anni 70. Circa 130.000, il 60% del totale, sarebbero gli edifici residenziali costruiti sul territorio della provincia di Salerno a rischio sismico. Sono quelle case antecedenti all'entrata in vigore della prima normativa antisismica che stabilisce una serie di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private. Tali numeri lasciano intendere che il patrimonio immobiliare della provincia di Salerno è decisamente datato. Gli edifici ad uso abitativo sono 210.000, di cui 130.000 a rischio sismico, quindi più di una casa su due sul territorio provinciale non rispecchia i parametri antisismici di legge. Volendo adeguare il patrimonio immobiliare residenziale alle normative vigenti in materia, occorrerebbero, secondo una stima realizzata dai tecnici del settore, 2 miliardi e mezzo di euro solo per la provincia di Salerno. Arriva allora in soccorso la legge di bilancio 2017, poi confermata per il 2018, che, si legge in una nota firma di Vincenzo Russo, presidente del lance AES Salerno, offre una strategia intelligente per conseguire gli obiettivi di riqualificazione degli immobili del nostro paese, sia dal punto di vista della sicurezza, con il sisma bonus, che sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico con l'eco bonus. Gli incendivi in questione sono in grado di incidere positivamente sulla qualità e sul valore degli immobili che si andranno a rigenerare. Va evidenziato che su una spesa pari a 100 il contributo del privato nell'investimento non supera il 30%, per cui con una saggia politica progettuale è possibile risparmiare il 70% dell'investimento. L'auspicio di Anci, conclude il presidente russo, è che questo progetto possa anche diventare uno strumento fondamentale per il rilancio del comparto edile. Il MIUR ha ufficializzato i fondi da assegnare alle università italiane. L'Università di Salerno è seconda in Italia e prima nel centro-sud per crescita della quota del fondo di finanziamento ordinario, che è la maggiore fonte di finanziamento per gli atenei statali, a cui si può attingere. È inutile sottolineare che per l'assegnazione occorre che vengano soddisfatti determinati parametri e sembra proprio che per Unisa siano tutti più che positivi a partire dall'alto numero di studenti in corso. L'Università di Salerno, tra le 65 università statali italiane, è il primo ateneo del centro-sud, secondo in Italia, solo dopo l'Università del Piemonte Orientale, per crescita percentuale della quota del fondo di finanziamento ordinario. Si tratta della maggiore fonte di finanziamento su cui possono contare gli atenei italiani. Più 4% è la dote a disposizione dell'Unisa per l'anno 2018. Rispetto al 2017 guadagnerà un ulteriore incremento di fondi ministeriali di oltre 4 milioni di euro, che è la somma delle quote di base premiale e perequativa assegnate dal MIUR. Dal 2013 ad oggi, dichiara orgoglioso il rettore Aurelio Tommasetti, abbiamo recuperato circa 30 milioni di euro sulla quota del finanziamento assegnato dal Ministero. Sui numeri, ufficializzati dal MIUR, incidono diversi fattori. Innanzitutto, i nuovi criteri di calcolo del costo standard per studenti in corso, che per l'Università di Salerno cresce del 20,67% rispetto allo scorso anno, indicando una diminuzione dei fuoricorsi e facendo avanzare il peso percentuale dell'Ateneo sul sistema universitario dall'1,99% del 2017 al 2,23% del 2018. Altro parametro di riferimento è quello basato sulle performance scientifiche valutate dall'Ambur. Questo dato per Unisa si traduce in un ulteriore più 10% di quota premiale rispetto al 2017. Poi vi rientra anche il dato positivo proveniente dal parametro dell'autonomia responsabile, che misura, tra le altre cose, la percentuale di studenti che nel 2017 hanno conseguito almeno 40 crediti formativi e la percentuale di personale assunto dall'esterno. In riferimento a questo parametro, la quota che l'Università di Salerno guadagna sull'anno precedente è di un ulteriore più 16,61%. I nuovi criteri di calcolo standard, che quest'anno tengono conto anche dei contesti economici del territorio di riferimento e dell'accessibilità agli Atenei, afferma Tommasetti, hanno fatto aumentare l'incidenza generale del nostro Ateneo sul sistema universitario nazionale. Sui fondi 2018, calcolati in base a costo standard e quota premiale, siamo il secondo Ateneo che cresce di più a livello nazionale. Su questi dati incidono la quota legata alle performance, nella ricerca e nella didattica, il numero di studenti in corso, il costo medio dei professori, le politiche di reclutamento, la partecipazione ai programmi Erasmus e la trasparenza. Questi sono tutti indicatori che gratificano il lavoro puntuale e quotidiano delle singole componenti coinvolte nella vita dell'Ateneo. Risultati come questi ci servono da stimolo a proseguire sulla strada della qualità, della sostenibilità economica e dell'attenzione al diritto allo studio. Continuando, conclude, a dare forza alla politica delle tasse pensata per supportare gli studenti e le loro famiglie. Andiamo ad Auletta, si dà il via alla campagna di sensibilizzazione per favorire la registrazione all'anagrafe canina dei cani di proprietà presenti sul territorio comunale e combattere così il fenomeno del randagismo. La mattina di venerdì prossimo, 28 settembre, a partire dalle ore 9 fino alle ore 11, sarà dedicata alla microcippatura gratuita dei cani. Le operazioni di inserimento dei microcipp sottocutanei agli amici a quattro zampe saranno effettuate in piazza Largo Cappelli e in caso di pioggia presso la casa comunale. Ad intervenire saranno il servizio veterinario dell'Asra di Salerno gratuitamente. Non esitate, venite numerosi e questa l'esortazione da parte del comune di Auletta che si allinea così ai tanti enti che in questo periodo stanno effettuando proprio le microcippature gratuite dei cani per cercare di ridurre il fenomeno molto sentito. E con questa notizia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torneremo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. Ancora un grande successo per il maestro pasticcere Giuseppe Manilia che è tornato vincitore assoluto della Santa Rosa Pastry Cup 2018. Svoltosi ieri a Conca dei Marini riuscendo con la sua Santa Rosa melata ad esaltare i sette sensi. Vediamo. Quando si vuole esaltare il gusto della sfogliatella Santa Rosa e stimolare i sette sensi non si può prescindere dal maestro pasticcere Giuseppe Manilia, artista della pasticceria che con la Maison Manilia Montesano Scalo riesce ad esaltare il gusto e a deliziare i palati di tutti predileggendo l'altissima qualità e la scelta di prodotti tipici che possono essere reperiti nelle aree del Parco Nazionale Cilento, Vallodidiano e Alburni. E' tornato al Santa Rosa Pastry Cup il maestro Manilia e così come è accaduto nel 2016 e come previsto alla vigilia era il campione da battere ma imbattibile. A Conca dei Marini, patria della sfogliatella Santa Rosa dove nacque nel 1700 da una suora del monastero Santa Rosa, trionfa anche quest'anno Giuseppe Manilia, maestro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiana, che con la sua Santa Rosa melata è riuscito ad interpretare in maniera sublime il tema per la creazione della Santa Rosa Sette Sensi. Senza toccare il croccante della sfogliatella che è tipico e per il maestro ritenuto un'eccellenza intoccabile e impareggiabile, Giuseppe Manilia ha accompagnato ciò che è la tipicità della sfogliatella Santa Rosa con la sua classica sfoglia croccante e la crema pasticcera alla mela, che è stata inserita in diversi modi, aggiunta alla crema e creando una vellutata. Insomma, una vera e propria opera d'arte che ha stupito i giurati anche per la presentazione. Il maestro Manilia ha infatti esaltato anche la vista dei giurati presentando la sua Santa Rosa melata nella dublice versione, sia impiattata che nella versione da banco. Il gusto con l'esaltazione delicata dei sapori parte della Santa Rosa melata ha fatto il resto, portando il titolare della Maison Manilia ad essere il vincitore indiscusso anche nell'edizione 2018 della Santa Rosa Pastricap e portando ancora una volta in alto anche il nome di Montesano e dei sapori del territorio. Tra i primi a congratularsi con il maestro pasticcere è proprio il sindaco Giuseppe Rinaldi che dalla sua pagina Facebook ha voluto condividere con tutti i suoi concittadini il successo del pluripremiato maestro Manilia, ritenendolo orgoglio per il territorio. Dopo il successo di Cacio e Comunanza proseguono gli eventi 2018 dell'Associazione Grotta Briganti e Cacio che ora propone uno spettacolo Uno Dio, Uno Re nella storia che racconta la storia dei briganti che hanno popolato il Monte Cervati. Sta per andare in scena nella suggestiva location dei Vallicelli a Monte San Giacomo lo spettacolo Uno Dio, Uno Re, il cui titolo ripropone il grido dei briganti disposti a morire piuttosto che rinnegare la loro appartenenza. Si tratta del secondo evento dell'edizione 2018 di Grotta Briganti e Cacio, l'associazione preseduta da Carmine Lisa che da cinque anni si prodiga nella valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti del territorio ai piedi del Monte Cervati. Dopo il successo di Cacio e Comunanza viene proposto ora un viaggio attraverso la storia di quei luoghi popolati da briganti. Con la consulenza etnografica del professor Antonio Tortorella il racconto è affidato all'attore Gennaro Cuomo che dello spettacolo è anche regista e interprete. Davanti alla Grotta dei Vallicelli andrà in scena con Adriana Fiorillo, Silvia Campiglia accompagnati dalla direzione musicale di Giosi Cincotti alla Fisa Armonica e da Marco Di Palo al Violoncello. Lo spettacolo è frutto di una ricerca portata avanti dall'associazione e lo studio di una serie di atti processuali successivi all'Unità d'Italia curato dal professor Tortorella e dalla dottoressa Patrizia Baisotti. Insieme stanno analizzando le caratteristiche del brigantaggio sul territorio del Cervati, partendo da quello San Giacomese, per consentirne di volta in volta una narrazione drammatizzata che coinvolga la gente del posto alla scoperta delle proprie radici storiche. Uno Dio, uno Re, dicono dall'associazione, è lo spettacolo frutto dell'amore per il proprio territorio dei moderni briganti, ma anche il seme di un ampio progetto di ricerca e studio da parte dell'autore e di Grotta Briganti e Cacio per ricostruire e raccontare la storia e le storie del Monte Cervati. Andiamo a Teggiano dove continuano gli appuntamenti del progetto DON. I prossimi, dopo l'inizio con il concerto dello Stato sociale, si terranno il 27 e il 30 settembre con due momenti dedicati a giochi medievali. Dopo il via dello scorso 19 settembre con il concerto dello Stato sociale, continuano gli appuntamenti del progetto DON. Si tratta di un'iniziativa cofinanziata dal POC Campania 2014-2020 che mira ad ampliare l'offerta turistica promuovendo la storia, la cultura, il patrimonio artistico, le produzioni tipiche e le tradizioni locali di Teggiano attraverso una serie di eventi che animeranno la città fino al 2019. I prossimi due appuntamenti si terranno il 27 e 30 settembre. Il caratteristico borgo antico tegianese, dicono gli organizzatori, sarà la scenografia naturale di due momenti dedicati ai giochi medievali. Il primo domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 17 e sino a tardasera nel centro storico con l'esposizione di antichi giochi medievali in legno realizzati a mano e con materiali di riciclo e dimostrazioni pratiche in cui chiunque potrà cimentarsi in piazza Portello. Diverse prove saranno infatti proposte da esperti nella disciplina del tiro dinamico con l'arco e gli appassionati potranno scoccare le prime frecce avvicinandosi praticamente a questo mondo di cui sarà raccontata la storia, descritti gli strumenti e le regole. Il secondo appuntamento, in programma domenica 30 settembre, si terrà in piazza San Giuseppe nella frazione di Pantano. L'associazione Pantano Nova, a partire dalle ore 15, proporrà le Olimpiadi medievali giovanissimi. I partecipanti si sfideranno in tradizionali giochi. Nello specifico si gareggerà nel tiro alla fune, tiro al bersaglio, corsa sul mattone, rompi pignata, corsa col sacco, pesca con la mela e poi in programma un interessante circuito psicomotorio. Per lo sport andiamo a Polla dove il prossimo anno la città non avrà squadre partecipanti ai campionati dilettantistici di calcio a 11 eppure l'amministrazione comunale ha anche dato un nuovo volto all'insegna dello Stadio Medici, nuovi colori che hanno coperto lo storico giallo-verde. La storia di Polla e il calcio a 11 vede la parola fine quest'anno. Dopo l'ultimo campionato di prima categoria, partato avanti con sacrificio e passione, cala il sipario e lo si fa con un grande rammarico perché Polla ha rappresentato da sempre una piazza storica del calcio campano e valdianese con gli antichi fasti anche nel massimo torneo regionale. Negli anni il tentativo di lanciare e portare avanti un progetto giovani, poi naufragato, ha visto tanti privati sostenere economicamente la gestione societaria. Ora arriva la parola fine, salvo clamorosi colpi di scena. Tuttavia, nonostante il calcio a 11 non sarà più protagonista allo Stadio Antonio Medici. L'amministrazione si è adoperata per il restyling della nuova insegna. Via i colori storici giallo-verdi ed ecco il rosso-blu che, come postato via social dall'assessore Mignoli, rispecchiano i colori dello standardo del comune. Eppure qualcosa non va. I colori del calcio pollese sono sempre stati il giallo-verde. Poi l'amministrazione Giuliano, già nel 2013, aveva provveduto a sistemare l'insegna dell'impianto sportivo, come in una recente foto pubblicata via social da Graziano Vocca. Come mai, se questa amministrazione e la continuazione di quella precedente, è stata cambiata l'insegna e soprattutto cancellati i colori storici della pollese? Una domanda a cui è difficile rispondere. È certo, tuttavia, che con un colpo di pennello è stato cancellato l'ultimo ricordo legato alla pollese e i suoi storici colori. E termina qui il nostro Tg. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.